Appuntamento mattutino con MSB TV per la sessione di allenamento della Montepaschi che ha iniziato quest'oggi a fine mattinata con la riunione tecnica prevista alle 11.30. Un solo allenamento per iniziare a prendere confidenza con quello che sarà l'orario della partita di Cremona dove la palla 2 sarà alzata alle 11.45. Le immagini che stiamo vedendo sono della squadra che entra nella sala meeting, sarà una settimana intensa anche sotto il profilo tattico visto che ormai sono questi gli ultimi giorni a disposizione della Montepaschi per speculare anche sulle proprie cose visto che poi dalla prossima settimana con l'inizio dell'Eurolega sarà necessario soprattutto lavorare sulle caratteristiche degli avversari. La squadra è sul campo in questo momento, un lavoro intenso dal punto di vista atletico a cui seguirà poi la parte tattica con tanto basket giocato. C'è Rimantas Kaukenas che ha saltato l'allenamento di ieri pomeriggio per un fastidio alla coscia, niente di grave, il giocatore lituano è già sul campo. Queste sono le immagini invece di Bome e Kalev che non sembra avere problemi dopo il piccolo riacutizzarsi del dolore alla piede durante la Supercoppa. Tutti presenti quindi nell'allenamento di Simone Pianeggiani in questa carrellata, l'unico in maglia bianca ma non è una scelta, è soltanto una casualità, è Milo Van Rakovic che abbiamo intervistato. Prima dell'allenamento per lui sarà un'esperienza un po' particolare quella della partita all'ora di pranzo, negli ultimi tre anni in Russia non ha mai giocato gare in questo orario. La sua precedente esperienza nel campionato serbo di tre anni fa ha parlato di questo e di molto altro, sentiamo. La sua scelta è stata molto difficile quando si riusciti a andare a giocare. Come tu hai detto, la prima volta ho finito tre anni fa e credo che ho scoperto come si sembra, ma ora ho avuto la possibilità di vedere. La sua scelta è un'esperienza di fare. Quindi speriamo che continuiamo con i vinti e portiamo più energia a questa città e a questa squadra. Non sono ancora 100% pronti, perché ho avuto un incontro e ho perduto due settori di pratica. Ora ho dovuto lavorare un po' più, per portare un migliore forma. Ma sono in un buon modo, spero che in un o due settimane sarò pronto, 100%. Domani con il programma più normale, quello settimanale, con due sedute di allenamento la mattina e il pomeriggio. Noi vi terremo aggiornati su tutte le ultime novità. Qua dal Palamenzana.